allora sta per partire la registrazione ok allora come vi dicevo questo è un corso di metodi e strumenti per le misure elettriche è un corso che se questo corso non avvenisse in un altro momento storico io direi a tutti che ha una sua parte fondante nelle esercitazioni di laboratorio lo dico anche adesso ma inutile negarvi che su questo discorso delle esercitazioni stiamo da settimane lavorando con il professore Capiriglione per cercare di trovare una soluzione che dia a voi il valore aggiunto di toccare gli strumenti di misura ma siccome queste cose si facevano in gruppi e i gruppi oggi sono diventati almeno in questo momento non sono fattibili si alternavano vari gruppi e l'alternanza di vari gruppi è un'altra cosa che oggi è complicata allora diciamo al momento dico al momento perché poi le cose varieranno a secondo di come di come evolverà la situazione di contesto comunque in linea di massima le esercitazioni saranno disponibili sia videoregistrate nel senso le andremo a svolgere noi docenti e vi facciamo vedere come queste esercitazioni ce ne andrebbero svolte poi le esercitazioni saranno presenti montate in laboratori in banchi con le varie strumentazioni e ognuno di voi singolarmente a gruppetti di gruppetti nel senso che avremmo montato immaginati in laboratorio ci sono 5 o 6 banchi montati in ogni banco potrà andare uno studente per volta svolge l'esercitazione e alla fine ha contezza di quello che noi abbiamo raccontato che hanno visto fatto da noi quindi rispetto a coloro che hanno seguito i corsi in fase di lockdown per voi prevediamo un moderato riavvicinamento ai laboratori queste esercitazioni saranno tradotte da voi in un'esercitazione si traduce alla fine in una relazione che racconta quello che è stato fatto durante l'esercitazione e tira fuori i risultati della misura queste relazioni vengono portate all'esame e rappresentano la prima domanda d'esame quindi questo proprio per sottolineare e per ribadire come per un corso di misure la parte di laboratorio ed essere in grado quindi autonomamente di tirar fuori un risultato e vedremo anche delle cose che sono da associare al risultato una misura è un elemento base quindi l'esame prevederà come prima domanda un'esercitazione poi altre due domande e alla fine si arriva alla vostra valutazione il materiale didattico lo andremo a caricare progressivamente in rete ma io penso che l'insieme del materiale didattico che vi forniamo delle lezioni videoregistrate possa consentire a tutti voi di sostenere quest'esame diciamo in tutta tranquillità non sempre troverete ora personalmente se andate a vedere nella mia pagina docente non trovate un orario di ricevimento questo perché la mia come potete forse immaginare la mia vita da rettore non rende facile una programmazione degli orari chiunque abbia bisogno di chiedere spiegazioni mandare una mail e ci si possiamo organizzare tranquillamente analogamente il professore Capriglione adesso gli do la parola vi dirà in che modo poter chiedere spiegazioni oramai tra l'altro abbiamo anche visto che uno fa l'altro giorno un ragazzo mi ha chiesto le spiegazioni ci siamo collegati in meet a volo i dubbi che aveva li abbiamo risolti rapidamente quindi diciamo è una oramai come aspetto positivo di tutta questa vicenda abbiamo capito che non sempre bisogna necessariamente andare fisicamente dalle persone ma qualcosa si riesce a fare efficientemente anche a distanza non so se su questo Nico vuole aggiungere qualcosa innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia in effetti per quanto riguarda il ricevimento come diceva il professore Betta diciamo io magari sia se mi contatterete via email sia comunque definirò un orario diciamo che verrà pubblicato sullo stream di Classroom al quale collegarvi per diciamo appunto eventuali ricevimenti da remoto ovviamente però vi invito in ogni caso a magari fare una sorta di prenotazione via email in modo tale che uno sa che quel giorno a quell'ora diciamo che in cui uno ha dato disposizione per il ricevimento c'è qualcuno che vuole realmente diciamo partecipare a questa riunione ed eventualmente possono essere anche tra virgolette riunioni di gruppo cioè nel senso che soprattutto poi magari quando andremo avanti nel corso e come vi diceva il professore faremo anche le esercitazioni e su quelle dovrete produrre delle relazioni magari se avete bisogno di un confronto perché avete qualche dubbio e le relazioni come al solito comunque verranno svolte di gruppo diciamo formando dei gruppi virtuali nel senso che diciamo magari collaborerete non da vicino testa a testa come si faceva una volta almeno fino all'anno scorso ma diciamo anche virtualmente potrete comunque imparare a collaborare perché uno degli scopi di questo corso è anche quello di diciamo darvi quelle cosiddette soft skills che molti aziende oggigiorno ci chiedono a noi come docenti cioè quello di insegnarvi o comunque darvi anche la possibilità di imparare a fare delle esperienze di lavoro in team perché poi spesso diciamo in azienda qualsiasi tipo di lavoro non si è mai solisti ma si è sempre diciamo in team e quindi anche l'imparare a interagire diciamo a scrivere un report insieme in alcuni casi dividersi i compiti e così via sono delle abilità che cerchiamo di diciamo inculcarvi anche con questo corso e quindi diciamo le relazioni è un modo per fare questo anche oltre che per prepararvi sugli argomenti specifici tecnici diciamo così dell'esame per cui tornando al discorso del ricevimento diciamo magari stesso in giornata vi definirò un orario in cui io mi renderò disponibile per ricevimento online e poi lo pubblicherò sulla diciamo sullo stream di Classroom va bene perfetto io a questo punto oggi vi lascio nelle mani del professore Capiglione non mi sembra che ci sia altro di tipo generale sul corso da fornirvi oggi comunque vi ribadisco quanto dicevo ai ragazzi prima che vi collegaste tutti per lezioni in presenza la prenotazione è non solo fortemente consigliata per motivi organizzativi ma è obbligatoria per consentire di assicurare la tracciabilità che ci viene richiesta dal Ministero e dall'ASL quindi se siete intenzionati a venire prenotatevi non c'è l'ansia di prenotarsi tanto tempo prima perché come vi dicevo l'aula che abbiamo la 1N5 che sarebbe l'aula che è nel plesso del parcheggio è un'aula che ha abbondantemente al momento siete 40 prenotati quindi vi contiene abbondantemente tutti quindi quando siete certi di venire riprenotate a quel punto resta traccia che quel giorno voi lì ci siete ovviamente è una traccia che a noi poi viene buttata se non ci sono degli usi da dover fare questo è bene qualche studente me l'ha chiesto in passato ma noi facciamo differenza fra chi è in presenza e chi è a distanza assolutamente non c'è nessuna nessuna volontà di creare studenti di serie A e serie B vi ripeto in presenza continuo ad essere forse sono un po' antico continuo ad essere del parere che si riesce a recuperare qualcosina in più dall'interazione fisica con il docente e anche dai colleghi che trovo nei posti vicini quindi a casa va bene ma prima o poi l'attenzione cala mi distrago e quindi la resa comunque telematica è sempre un pochino minore è vero le registriamo le potete rivedere registrate io ho visto mio figlio si le aveva registrate però poi diceva beh la posso vedere a che seconda la vedo domani ed è sempre domani e quindi diciamo il ritmo di un corso è fatto anche per mettere le cose una dopo l'altra un po' per volta se io accumulo un po' di ritardi poi dopo vado un po' in affanno quindi l'invito veramente a ritornare tranquilli in presenza e spero di vedervi numerosi nelle prossime lezioni allora io vi saluto a questo punto e vi lascio al professore Capriglione buon proseguo e a presto ok risalve a tutti immagino che diciamo con le varie i vari messaggi che le varie notifiche che vi sono arrivate ieri probabilmente su Classroom abbiate notato che abbiamo cominciato a caricare il materiale che servirà diciamo per il corso in particolare per queste prime lezioni per questa prima settimana in effetti che nel caso specifico all'interno di Classroom trovate sotto forma di due tipologie di materiali da un lato ci sono delle slide che sono quelle che adesso mi accingerò a proiettare e che descriveranno appunto gli argomenti di questa prima settimana dall'altro ci sono del materiale come dire di approfondimento o comunque di riferimento dal quale tutto sommato sono state prese le slide i contenuti che sono riassuntivi ovviamente riportati nelle slide quindi diciamo così avete tutto in generale per poter studiare l'argomento in questa settimana sarà una prima settimana ovviamente abbastanza introduttiva ai concetti di base delle misure ed in particolare diciamo daremo qualche definizione faremo degli esempi faremo dei richiami di statistica applicata alle misure e all'interno stesso di questa settimana in particolare probabilmente nelle lezioni di mercoledì e giovedì ci saranno anche delle esercitazioni degli esercizi diciamo in aula sulle appunto sulla statistica applicata alle misure e quindi sui contenuti di queste prime lezioni ovviamente poi mano a mano che andremo avanti con le settimane caricheremo per argomenti appunto le dispense diciamo eventuali slide per le successive lezioni e quindi diciamo mano a mano avrete sempre il materiale prima ancora diciamo che si si svolga la lezione anticipo giusto da ora che non è detto che poi per tutti gli argomenti avremo sempre a disposizione le slide nel senso che ci sono alcuni argomenti che ben si prestano diciamo al fatto di poter essere diciamo spiegati con delle slide altri invece che magari richiedono anche per un fatto di diciamo migliore comprensione da parte vostra che si faccia uso di altri strumenti tipo la lavagna e quindi diciamo non sempre saranno disponibili in generale le slide detto questo allora io partirei con condividere il mio schermo in particolare diciamo per quanto riguarda la le slide che vi ho condiviso e che riguardano diciamo l'introduzione alle misure quindi diciamo iniziamo ad introdurre un po' di concetti generali sulle misure e innanzitutto vi chiedo se riuscite a vedere datemi un feedback preferibilmente non tramite chat che adesso non la vedo più perché sto condividendo lo schermo intero ma qualcuno di voi che mi dica magari che diciamo a voce che si vedono le slide sì però si vedono le slide perfetto ok grazie allora qual è lo scopo di questa di questa lezione innanzitutto iniziare a capire perché diciamo in generale è importante un corso di misure perché fondamentalmente anche se molto spesso in ogni giornata a noi capita in qualche modo di sfruttare il concetto di misura o il risultato diciamo di misura di qualcosa lo facciamo implicitamente senza renderci conto che in realtà poi dietro c'è ci sono tanti aspetti sia legali ma anche tecnici che andrebbero sempre considerati visto che in alcuni processi in alcune situazioni il risultato di quella misura poi determina dei fatti importanti in generale adesso facciamo qualche esempio allora innanzitutto per esempio nel commercio no nel diciamo nel commercio quando voi andate al supermercato e comprate un chilo di pane diciamo voi pagate per un chilo di pane e quindi voglio essere sicuro in generale del fatto che quel chilo era realmente un chilo e non erano 900 grammi o diciamo un chilo e mezzo e viceversa così come diciamo in ambito scientifico per esempio anche le leggi fisiche che spesso sono teorizzate sono ipotizzate e derivano appunto da dei modelli teorici poi per essere verificate in qualche modo chiedono dei setup sperimentali quindi delle misurazioni per poter diciamo anche verificare o addirittura affinare in qualche modo anche le leggi fisiche in ambito industriale in ambito industriale non so se vi è capitato probabilmente sì perché si è sentito parlare tanto in questi mesi in questi anni dell'industria 4.0 il piano nazionale industria 4.0 in inglese industria 4.0 perché in realtà è un piano più che altro europeo se non addirittura mondiale in cui fondamentalmente si va a diciamo a fare in modo che la moderna industria dalla manufatturiera ad altri tipi di industria ad altri settori diciamo in svariati campi di applicazione diciamo prevedano una forte automatizzazione dei processi da tutti i punti di vista e per esempio nella regolazione e controllo di una linea oppure dei parametri costruttivi di un oggetto e così via il monitoraggio e verifica dei parametri dei processi di produzione per migliorare la produzione per migliorare l'efficienza energetica per migliorare la qualità di quello che si sta producendo ebbene tutti questi aspetti che sono legati anche al mondo industriale moderno diciamo sono aspetti che richiedono diciamo in tutte queste fasi sicuramente operazioni di misurazione di verifica di monitoraggio di quello che è necessario appunto misurare e questo aspetto qui è un aspetto che vede diciamo così gli ingegneri informatici delle telecomunicazioni particolarmente coinvolti in questi anni e lo vedrà per i prossimi decenni perché come vi dicevo è partito da un annetto a questa parte quella che si chiama diciamo piano nazionale industria 4.0 che di fatto il 4.0 sta a indicare la quarta rivoluzione industriale cioè diciamo una rivoluzione che prevede praticamente una elevatissima automatizzazione delle industrie ma dove l'automatizzazione non è intesa solo come automatizzazione di uno specifico processo ma anche quello di condividere le informazioni più rapidamente di poter condividere le informazioni tramite un tablet della possibilità di esercitare delle azioni di controllo attraverso diciamo anche delle operazioni da remoto semplicemente consultando una pagina web e così via cioè ha innescato un meccanismo tale per cui diciamo così le vostre competenze che state acquisendo da un punto di vista proprio di ingegneri informatici e delle telecomunicazioni diventerà sempre più importante anche nel mondo industriale quindi non pensate sempre che magari in generale le vostre competenze saranno vendibili solo diciamo così per aspetti un po' più squisitamente informatici e quindi solo per aziende che lavorano diciamo nel settore dell'informatico delle telecomunicazioni ma iniziate a immaginare che diciamo le vostre competenze saranno senz'altro fondamentali anche per l'industria moderna anche nel mondo dei trasporti dicasi qualcosa del genere perché diciamo valgono ragionamenti del genere perché perché alla fine se pensate diciamo semplicemente alla gestione elettronica dei motori io sono un po' diciamo appassionato di auto quindi su questo possiamo fare parecchi esempi in generale però oggigiorno una qualsiasi macchina è dotata e provvista di tantissimi sistemi di sicurezza attiva passiva parliamo principalmente di quella attiva quindi il più datato ABS che ormai diciamo così qualcosa che esiste da 15-20 anni ha i sistemi invece un po' più moderni quindi quelli a guida automatica piuttosto che quelli che vi diciamo avvisano se state lasciando una corsia diciamo in maniera senza aver messo una freccia quando state in autostrada magari la macchina va sull'altra corsia senza aver messo una freccia piuttosto che segnalarvi diciamo durante il sorpasso da parte di una macchina che vi sta affiancando e che voi magari non vedete perché si trova nell'angolo cieco dello specchietto retrovisore esterno diciamo vi segnala con un led attenzione non spostarti a sinistra perché in quel momento c'è qualcuno che ti sta per sorpassare sono tutti sistemi di sicurezza attiva che diciamo migliorano ovviamente la qualità del guidatore ma di fatto su che cosa si basano si basano su delle misure perché alla fine l'architettura di un sistema del genere è diciamo un'architettura che prevede sicuramente un insieme di quelli che in gergo si chiamano sensori che altro non sono che dei sistemi che servono a misurare determinate grandezze e poi diciamo una volta che queste grandezze vengono misurate e diciamo interpretate ed elaborate magari dai microprocessori o comunque microcontrollori di bordo che ci sono nelle centraline elettroniche diciamo di cui sono costituite questi veicoli avvisano il guidatore dell'eventualità di qualche diciamo pericolo oppure addirittura esercitano proprio delle azioni in maniera autonoma come per esempio nel caso dell'ABS l'ABS è un sistema che si basa sulla misura della velocità delle ruote e diciamo qual è il principio di funzionamento è che se io a un certo punto vedo che queste ruote invece di rotolare iniziano a slittare quindi misuro una velocità pressoché nulla diciamo del rotolamento perché di fatto stanno slittando le ruote e quindi diciamo si sta iniziando a slittare perché magari il fondo è sdrucciolevole quello che fa l'ABS è quello di rilasciare diciamo le pinze dei freni che voi magari avete premuto avete inchiodato per fare la frenata perché paradossalmente in realtà non paradossalmente sono leggi della fisica è meglio far diciamo riprendere il rotolamento delle ruote per diciamo consentire una frenata in spazi e quindi in tempi più brevi piuttosto che continuare a diciamo così a slittare con le ruote fisse e in quel caso diciamo è tutto un sistema completamente automatico che diciamo svolge appunto la centralina dell'ABS ma che si basa innanzitutto su delle misure anche in ambito ambientale ovviamente il ruolo delle misure è fondamentale perché quando si parla di livelli degli inquinanti ora che si possa parlare di inquinamento dei liquidi piuttosto che dei gas piuttosto che inquinamento acustico elettromagnetico e così via per lo mezzo ci sta da dover monitorare dei parametri e questo lo si fa attraverso delle operazioni appunto di misura così come volendo andare un pochino più diciamo nell'ambito in cui magari è più vicino a voi anche nella caratterizzazione delle reti informatiche e di telecomunicazione anche lì diciamo il ruolo delle misure è fondamentale perché per esempio per misurare i parametri di quality of service di un collegamento non so sicuramente tutti voi vi sarà capitato anche per per caso per necessità per esempio di usare quella quell'app speed test che si utilizza per verificare il collegamento diciamo di rete a che velocità va in upload di download diciamo se c'è gitter e così via quindi sono tutti i parametri i cosiddetti di quality of service di un collegamento e che diciamo nel caso specifico magari voi monitorate per curiosità no? per vedere un pochino il vostro collegamento quanto è veloce rispetto ad un'altra quanto una rete quanto un operatore mobile magari è più veloce rispetto ad un'altra quanto una rete in fibra ottica va meglio rispetto ad un'altra e così via però poi di fatto dietro quel semplice numeretto in realtà c'è un processo di misura che nel caso specifico tiene fa riferimento per esempio a pacchetti perché in effetti parliamo di pacchetti di dati no? e quindi diciamo non parliamo di magari tensioni elettriche o correnti o diciamo di grandezze squisitamente elettriche a cui faceva per esempio riferimento il professore Betta prima ma però parliamo comunque di oggetti che vanno misurate cioè di quantità che vanno misurate e per esempio non è il caso degli utenti diciamo tra virgolette civili come noi ma nel caso per esempio delle grandi aziende che negoziano diciamo magari sulla base di un costo di un canone dei livelli di qualità garantiti quindi in termini per esempio di banda di jitter di affidabilità del collegamento e quant'altro con i provider di servizi diciamo di telecomunicazione informatici ovviamente quella 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 quell'indice di quel quel parametro di quality of service che state andando a misurare assume un ruolo fondamentale perché magari diciamo se al di sotto di una certa soglia significa che non sto avendo io come utente aziendale diciamo un livello di qualità garantito e quindi fondamentalmente diciamo per esempio da un punto di vista contrattuale il mio provider non mi sta dando quello che per cui io sto pagando sempre volendo fare qualche altro esempio nell'ambito delle reti informatiche di telecomunicazione per esempio anche diciamo nella verifica del funzionamento o anche nel tuning nell'aggiustamento dei parametri diciamo di un ponte radio diciamo alla fine come lo si fa solitamente dopo che c'è un progetto che diciamo prevede sulla base magari delle leggi che avete studiato anche in altri corsi come quelli di campi diciamo di propagazione in generale che vi dice più o meno quali sono per esempio i livelli di potenza che devono essere diciamo irradiati in un certo territorio con una certa antenna per garantire la copertura di quel territorio e far sì che la ricezione poi degli utenti di quel territorio sia ottimale rispetto ai servizi di cui si vuole fruire poi in effetti diciamo quando ci si scontra con il mondo reale spesso capita che quei modelli che magari avevate ipotizzato per quanto per quanto complessi e quanto diciamo così anche completi diciamo rispetto a certe cose però poi mancano in alcuni aspetti legati magari alle condizioni al contorno in cui poi ci si trova realmente e a quel punto per poter fare il tuning del diciamo del del ponte radio è necessario fare delle misure e quindi in generale nel caso specifico per esempio misure di potenza di segnali irradiati così come anche diciamo nell'ambito delle reti mobili quindi diciamo delle reti cellulari molteplici ambiti sia per verifica ancora una volta delle prestazioni ma anche per aspetti legati per esempio all'inquinamento elettromagnetico diciamo è necessario fare delle misure per poter verificare diciamo il funzionamento di queste reti e ovviamente poi qui la slide volutamente con i puntini sospensivi perché poi ovviamente le esigenze come dire di misura sono molteplici e non si limitano ovviamente a quelle che abbiamo visto in questa slide ora per diciamo iniziare a parlare lo stesso linguaggio da ora in poi e quindi a cercare di utilizzare una nomenclatura comune in questa slide sono riportate alcune definizioni fondamentali in particolare innanzitutto definiamo che cos'è il misurando in generale il misurando è l'oggetto fisico su cui effettuare le misure in generale la misurazione è il processo di misura per determinare in maniera quantitativa una proprietà del misurando la misura è il risultato della misurazione quindi di quel processo che abbiamo definito prima e poi il sistema di misurazione o anche strumento o strumento di misura è il dispositivo o l'insieme di dispositivi che consente di eseguire la misurazione e quindi di raggiungere a quello che è appunto il risultato della misurazione ovvero la misura quindi fondamentalmente queste sono le definizioni diciamo principali da cui partire nel momento in cui inizieremo a parlare appunto di misure in generale quindi misurando l'oggetto fisico su cui devo effettuare le misure la misurazione e il processo di misura la misura è il risultato della operazione del processo di misura e quindi della misurazione e infine il sistema che mi consente di effettuare la misura si chiama sistema di misurazione oppure strumento o strumento di misura posso andare avanti? a questo punto sempre rimanendo nell'ambito delle definizioni ci faceva piacere anche darvi la definizione di metrologia non meteorologia metrologia perché diciamo di fatto la metrologia è quella scienza legata proprio diciamo così alle misure perché a seconda delle definizioni che potete trovare ovviamente in varie fonti è diciamo la scienza che studia i problemi inerenti alla misurazione e quindi alla scelta delle unità di misura e dei sistemi di misurazione in generale questa per esempio è la definizione che trovate sul dizionario Garzanti diciamo una definizione anche che è piuttosto vecchia e poi diciamo se andiamo invece sulle norme internazionali poi recepite anche a livello italiano dagli istituti uni e cei trovate che la metrologia è il campo della conoscenza che riguarda le misurazioni comprende tutti gli aspetti teorici e pratici che riguardano le misurazioni qualunque sia il livello di accuratezza in ogni campo della scienza e della tecnologia quindi è una definizione molto ampia dove si inizia introdurre anche dei termini diciamo che poi impareremo ad utilizzare un po' meglio più avanti che il termine accuratezza che diciamo così in maniera qualitativa vi inizia a far immaginare diciamo ovviamente al concetto più ampio di affidabilità di una misura no? Cioè in generale io mi aspetto che una misura accurata almeno parlando diciamo così in maniera qualitativa sia una misura che sia diciamo maggiormente affidabile in generale la metrologia diciamo a sua volta poi si suddivide in due branche grosse branche la metrologia scientifica e tecnica e quella legale che si sono suddivise un pochino alcuni aspetti in particolare per quanto riguarda la metrologia legale lo scopo è quello di fondamentalmente verificare che tutti gli strumenti di misura impiegati nelle transazioni commerciali rispondono ai requisiti previsti della legislazione vingente allora innanzitutto di che cosa stiamo parlando di strumenti di misura impiegati nelle transazioni commerciali sono i più disparati come può essere il distributore diciamo di benzina piuttosto che la bilancia come facevamo prima l'esempio del fruttivendolo del supermercato o il tassametro o lo stesso autovelox cioè ogni qualvolta c'è una transazione commerciale diciamo in seguito ad una misurazione quegli strumenti vengono diciamo gestiti attraverso una serie di norme che fanno parte di quelle che sono la metodologia legale e in particolare diciamo l'organismo internazionale della metodologia legale l'OIML è questo organismo che fondamentalmente diciamo crea questi regolamenti crea queste direttive crea queste norme diciamo sotto le quali appunto poi vanno progettati gli strumenti di misura e anche diciamo in generale verificati diciamo periodicamente se ci fate caso per esempio quando andate al distributore di benzina ma anche se andate a vedere la bilancia di cui dicevamo prima del fruttivendolo trovate fateci caso diciamo dei bollini verdi degli adesivi verdi di franco bolliverdi che in qualche modo vanno ad attestare che quell'oggetto è stato verificato periodicamente quindi ne è stata verificata l'affidabilità da un punto di vista misuristico per gli scopi per cui è stato progettato e quindi questo è a garanzia come dire dell'utente finale che sa che appunto quando va alla pompa di benzina un litro erogato è un litro erogato più o meno diciamo così una certa come dire fascia di ammissibilità di variabilità del risultato che poi vedremo fra un po' chiameremo incertezza però in generale quel bollino verde è diciamo un bollino che in qualche modo attesta l'affidabilità diciamo di questi strumenti e tipicamente se ci fate caso questi bollini riportano anche la data o comunque l'anno in cui è stata fatta la verifica perché poi per esempio ci sono alcuni strumenti che hanno richiedono una verifica delle proprie caratteristiche diciamo di misura non so con una periodicità annuale altri magari con periodicità diennale altri con una periodicità diciamo ancora più spinta invece magari ogni sei mesi dipende un po' dall'applicazione e dallo scopo di quello strumento e quel bollino verde solitamente trovate anche indicata quindi quando è stata fatta l'ultima verifica per quanto riguarda diciamo giusto per farvi un esempio gli strumenti che rientrano diciamo nella gestione della metodologia legale alcuni di questi ve li ho già citati con degli esempi come le bilance i misuratori di carburanti ma ci trovate anche per esempio altri oggetti come i contatori del gas per esempio quelli che avete a casa per contabilizzare il gas i consumi di gas così come per esempio gli autovelox che vengono utilizzati per accertare le infrazioni i contatori di energia elettrica i contatori diciamo del gas i contatori di energia termica e così via quindi ogni qualvolta c'è per esempio pure degli strumenti di misura che contabilizzano quindi diciamo dei consumi energetici di qualsivoglia e per i quali c'è diciamo una transazione commerciale quindi c'è un pagamento da parte di qualcuno a fronte di un consumo diciamo misurato è necessario appunto che questi strumenti vengano in qualche modo gestiti da un punto di vista metrologico attraverso il cappello della metrologia legale quindi attraverso una serie di regole e di diciamo direttive normative tecniche che vengono pensate a livello diciamo così internazionale per quanto riguarda invece la metrologia scientifica e tecnica diciamo si distingue da quella legale per il fatto che mentre quella legale dà tutto sommato una serie di regole quella tecnica la metrologia scientifica e tecnica fornisce come poi diciamo così fare queste verifiche quindi magari suggerisce anche i metodi proprio di da dover applicare il setup sperimentale da dover realizzare per esempio per fare per verificare per esempio in generale diciamo anche gli strumenti che vanno sotto la metrologia legale su come devono essere per esempio verificati tarati e così via però ha anche altri scopi quello di diciamo fare queste quattro operazioni che sono riportate nella slide in particolare realizzare riprodurre mantenere e disseminare che cosa i campioni primari delle unità di misura delle diverse grandezze fisiche in accordo con la definizione che per ciascuna di esse è data dal sistema internazionale delle unità ovviamente voi avete sentito già parlare di unità di misura in generale no? perché anche nei corsi magari di per esempio di elettrotecnica o di elettronica diciamo quando avete iniziato a parlare di differenze di potenziale di correnti di diciamo resistenze condensatori sono tutte grandezze diciamo elettriche a cui è associata un'unità di misura un'unità di misura che in qualche modo è derivante dal sistema internazionale delle unità sul sistema internazionale delle unità faremo più avanti una lezione specifica quindi diciamo adesso l'ho solo accennato però per far capire un po' anche quali sono le grandezze diciamo così fondamentali come si implementa questo sistema internazionale delle unità e poi quali sono quelle derivate diciamo così da quelle fondamentali e la cosa che però è interessante ed è un concetto che secondo me dobbiamo cominciare già a fare nostro diciamo è il fatto che indipendentemente dalla tipologia di misura che diciamo si va a realizzare e quindi diciamo anche dagli obiettivi della diciamo della mia operazione della mia misurazione fondamentalmente gli agenti coinvolti in un processo di misura sono almeno macroscopicamente sempre gli stessi perché fondamentalmente diciamo in effetti misurare qualcosa significa che diciamo si vuole andare a confrontare una certa proprietà di un misurando quindi di un oggetto fisico fondamentalmente con un campione e questa cosa qua prevede l'interazione di cinque diversi agenti macroscopicamente che sono il misurando stesso lo strumento di misura diciamo che mi permette di ottenere diciamo il valore richiesto il metodo di misura impiegato l'operatore che mediamente può effettuare questa operazione e diciamo l'unità di misura che implementa di fatto il campione primario di cui dicevamo prima quindi che mi consente poi di appunto confrontarmi con il campione primario ovviamente ciascuno di questi diciamo agenti come abbiamo chiamato adesso inizialmente contribuiscono ripeto a poi quello che sarà il risultato finale in particolare volendo andare un po' più nel dettaglio di questi cinque agenti il misurando è quello che è l'oggetto fisico su cui vengono eseguite le misure immaginate per esempio ad un resistore l'operazione di misura si prefigge in genere la valutazione quantitativa di una proprietà del misurando nel caso specifico di un resistore spesso la proprietà che si va a cercare è la resistenza quindi fate attenzione pure quando si utilizzano i termini resistore e resistenza il resistore è l'oggetto fisico la resistenza è la proprietà magari resistiva appunto di quel resistore ed è quello che generalmente diciamo si va a cercare di un resistore e poi spesso diciamo il misurando viene anche rappresentato attraverso un modello matematico che sfrutti delle leggi generalmente fisiche già note come per esempio il caso della legge di Ohm in cui tutti conoscete che la differenza di potenziale ai capi diciamo appunto di un resistore è dato da V uguale R per I dove R rappresenta la resistenza del resistore e I appunto la corrente che lo attraversa perché è importante modellare diciamo il misurando anche attraverso un modello matematico perché poi spesso anche i metodi di misura si basano su questa modellazione e quindi se io so come misurare come modellare un diciamo il misurando attraverso diciamo una relazione matematica poi posso anche ipotizzare qual è il metodo di misura più appropriato per ottenere diciamo informazioni su quel misurando su quella proprietà di quel misurando il metodo appunto rappresenta la modalità con cui si esegue il confronto tra il misurando e il campione e come vi dicevo prima vi accennavo prima il metodo di misura sfrutta generalmente un fenomeno fisico come può essere appunto per esempio nel caso della misura della resistenza la legge di Ohm come vedremo anche poi più avanti nel corso lo strumento abbiamo detto è l'oggetto con cui si esegue il confronto fra misurando e campione secondo le modalità previste appunto dal metodo quindi dalla procedura diciamo impiegata l'operatore è colui che generalmente coordina e supervisiona la sequenza di operazioni previste dal metodo di misura impiegato quindi di fatto svolge la procedura di misura che molto spesso può essere anche diciamo ridursi tra virgolette ad un elenco di passi ad un insieme di step da svolgere in sequenza poi l'operatore ha un'altra responsabilità quella non solo di svolgere in generale diciamo le operazioni in una certa sequenza ma anche di leggere magari l'indicazione degli strumenti degli strumenti di misura eventualmente elaborare le letture perché a volte capita che diciamo per raggiungere il risultato diciamo della misurazione e quindi la misura sia necessaria una forma di elaborazione dei dati per esempio attraverso in molti casi delle operazioni matematiche tipo media e quindi l'operatore svolge tutta una serie di operazioni che diciamo possono essere in generale fatte appunto manualmente quindi l'operatore è uno di noi quindi una persona che fisicamente fa tutte queste fasi di cui abbiamo detto ma in alcuni casi potrebbe anche essere non umano nel senso che come vedrete nei corsi più del secondo livello un sistema di misura può diventare anche automatico cioè gli strumenti di misura che noi impareremo ad utilizzare durante questo corso durante le esercitazioni e che impareremo ad utilizzare come diceva pure il professore prima da vicino cercando di toccarli cercando di utilizzare i pannellini frontali visualizzare i risultati sui rispettivi display cambiare le impostazioni dello strumento per capire cosa succede e così via sono oggigiorno degli strumenti in generale che possono essere anche diciamo in gergo tecnico si dice pilotati da remoto cioè presentano delle interfacce generalmente di comunicazione che sono presenti spesso sui pannelli posteriori quindi non li vedete diciamo in maniera evidente se non appunto non lo sapete interfacce tipo la usb piuttosto che l'interfaccia ethernet giusto per fare degli esempi diciamo un po' più familiari ma che poi ci sono tanti sistemi di interfaccia cioè quelli li studieremo diciamo ai corsi del secondo livello che consentono attraverso la realizzazione di software per esempio su un pc esterno collegato attraverso questi sistemi di interfaccia agli strumenti di realizzare le procedure in maniera automatica quindi tutto quello che abbiamo detto prima supervisionare la sequenza delle operazioni leggere l'indicazione degli strumenti ed elaborare le letture per arrivare al risultato della misura sono cose che in teoria un sistema automatico di misura può fare in maniera diciamo così appunto automatica senza l'intervento di un operatore cioè basta mandare in run un programma che avete realizzato e automaticamente tutte queste operazioni vengono fatte da questo programma che si collega a questi strumenti di misura ovviamente questo potrebbe avere dei vantaggi in molte situazioni laddove soprattutto le procedure di misura sono ripetitive oppure sono complesse sono lunghe oppure richiedono per esempio dei tempi certi di reazione ovviamente un operatore diciamo ha difficoltà ad avere tempi certi di reazione e a essere sicuri che non sbagli in generale qualche operazione anche se non altra addirittura per esempio pure l'operazione di trascrizione di un risultato cioè se l'operazione di trascrizione avviene appunto in maniera manuale su un foglio ci può pure stare una svista piuttosto che diciamo proprio un'operazione magari anche ho visto bene il risultato ma poi quando vado a trascrivere per qualche motivo salto una cifra sposto una virgola piuttosto che cambio un numero con un altro quindi diciamo l'operatore umano ovviamente è più portato a poter fare un errore del genere rispetto come dire ad un computer che esegue tutte queste cose in automatico infine il quinto agente diciamo che è coinvolto in un processo di misura è il campione che realizza fisicamente appunto l'unità di misura con la quale si vuole confrontare il misurando quindi il volt l'ampere e così via ora da questo fatto da questa descrizione che vi ho fatto e quindi da questo fatto che in generale un processo di misura prevede appunto l'interazione di questi cinque agenti e dal fatto che in generale ciascuno di questi cinque agenti potrebbe portare delle imperfezioni diciamo dentro a tutto questo sistema dentro a tutto questo processo scusatemi allora diciamo vi fa cominciare a immaginare che quando si esegue una misurazione il risultato da associare a questa misurazione non dovrebbe essere un semplice numeretto che è quello che io ho letto sul display ma bisognerebbe diciamo sicuramente riportare quel numeretto in generale o il numero elaborato se sono state fatte delle elaborazioni come facevo prima esempio delle medie ma sicuramente bisogna portare la scala di misura perché diciamo è importantissimo indicare non solo se sono volt o ampere o ohm o quello che sono ma se sono millivolt microvolt megavolt e così via ma ancora più importante è probabilmente il fatto di cercare di data l'imperfezione di tutta diciamo così questo processo che coinvolge cinque agenti ognuno dei quali può metterci delle imperfezioni che poi vanno a interagire tra di loro bisogna cercare di fornire anche diciamo sempre associato al risultato diciamo del processo di misurazione anche un qualche indice che diciamo ne metta ci dia una idea della qualità di quella misura e questo indice poi lo studieremo più nel dettaglio nelle prossime lezioni prende il nome di incertezza di misura cioè cosa vogliamo dire vogliamo dire che fondamentalmente io qualsiasi sia il tipo di misura che faccio devo cercare di diciamo far sì che quando vado ad esprimere il mio risultato questo risultato di misura non può essere solo un numeretto ma deve essere un numeretto più o meno l'incertezza di misura per tener conto diciamo così di queste imperfezioni che ci saranno inevitabilmente nel mondo reale e ovviamente corredata dell'unità di misura ed è quello che c'è scritto praticamente su questa slide qua cioè in pratica se x è la grandezza generica di misura il risultato di misura deve essere espresso sotto questa forma cioè x è il risultato stesso u è l'incertezza di misura la usta per uncertainty in inglese quindi è un termine ereditato dall'inglese e la gdx è l'unità di misura per fare in modo che si esprima tutto sempre considerando la giusta unità di misura sia per quanto riguarda l'incertezza di misura sia per quanto riguarda il risultato della misura stessa detto questo direi che poiché abbiamo diciamo siamo arrivati alle 11 io mi fermerei qua con la lezione di oggi e domani ti prenderemo da queste slide qui da questa slide che sto proiettando adesso e poi una volta terminate queste slide riprenderemo continueremo scusatemi con le slide sui richiami di statistica per le misure ok credo che a questo punto se non ci sono domande potremmo diciamo chiudere qui tutto chiaro ok allora io vi saluto qui e come vi diceva il professore una volta registrata la lezione è pronto il file lo renderemo anche questo disponibile ovviamente su Classroom con me ci vediamo domani mattina per la lezione che si terrà se non ricordo male alle 9 ok vi saluto allora arrivederci e buona continuazione grazie a tutti Grazie.